Una chiamata dove chiedevano aiuto per una signora caduta a terra in casa che non respirava e non era cosciente. Gli infermieri della centrale sono attivati subito, hanno capito da subito che era un problema serio, hanno dato l'istruzione perché i familiari iniziassero il massaggio cardiaco e hanno inviato mezzi di soccorso in tempi rapidi. È stato colpito improvvisamente da un infarto in casa ma grazie ad una vera e propria catena di soccorsi è riuscito a salvarsi. È successo a Bucine domenica mattina attorno alle 9 quando un 57enne che non aveva mai avuto problemi di cuore ha accusato il grave malore andando in arrasso cardiaco. L'allarme al 118 è stato dato dalla moglie e la figlia dell'uomo che seguendo le istruzioni telefoniche degli operatori dell'emergenza hanno iniziato il massaggio cardiaco sul 57enne. Questi casi qua il tempo fa la differenza. L'unica cosa che si può prevedere è fatta dai familiari, il massaggio cardiaco che comunque ci fa aumentare il tempo d'arrivo e quindi guadagniamo dei minuti che se all'arrivo ci vuole dai 3 ai 5 minuti, se il paziente viene massaggiato da subito i minuti diventano 7-8. Nel frattempo sul posto sono arrivate anche automediche e ambulanza. Gli operatori del 118 hanno così continuato le manovre utilizzando anche il defibrillatore. Il paziente improvvisamente dopo una seconda scaria mi sembra ha riaperto gli occhi ma ha anche detto ai soccoritori cosa ci fate qui, quindi ha pure parlato. Una volta stabilizzato il 57enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Arezzo e ricoverato in emodinamica dove è stato sottoposto ad un intervento per riaprire le coronarie. L'uomo attualmente è fuori pericolo. Arezzo resta una delle province più cardioprotette d'Italia con 800 defibrillatori su tutto il territorio provinciale e 30.000 persone formate per il loro utilizzo. Più defibrillatori tu metti il territorio, più persone formi, più vite salvi. E questa proporzione torna, torna su Arezzo, torna in tutta Italia. L'importante è farlo. L'obiettivo adesso è quello di una diffusione ancora maggiore. La proposta è infatti quella di dotare di defibrillatori anche i singoli condomini. Non dobbiamo aspettare arrivo a mezzo di soccorso a defibrillare, quindi dobbiamo organizzarsi nei nostri condomini ad avere lo strumento per fare cosa giusta al momento giusto.